Va ora in onda da rifugio di un arre, il TG Web News, il TG della scuola primaria. Ieri sera siamo andati nella iurta e ci siamo divisi in due gruppi, risico e monopoli. Abbiamo fatto dei balli occidentali, occitani. E grazie all'educatore Simone che ha assumato l'organetto, ci dava il tempo per ballare. Adesso vedrete delle foto che abbiamo scattato ieri. Grazie a tutti. Oggi abbiamo iniziato l'avventura per i custodi della terra e superando le prove e abbiamo guadagnato la prima chiave. Nel pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata nei boschi sulle orme di E.M. Nel video troverete una delle avventure della classe quinta. Vediamo chi non entra in acqua, vai! E uno! Bravissima, Maimone! Bravissima! Avanti! Vai, Edoardo! Vai, Paolo! Sì! Pobre Edoetta! Vai, Carlotta! Vai, Carlotta! BANILANDO! Arelli! Alessandro, a Valle! MAM! Ragazzi! Adesso la pubblica del busso. Oggi per pranzo abbiamo mangiato risotto ai formaggi, tortino di patate, piselli e frutta. E questa sera mangeremo gnocchi alla romana, insalata di finocchi, frittata e torta di mele. O scusate il meteo, oggi è stata una giornata nuvolosa e con molta umidità, domani ci sarà neve, pioggia e anche un po' di sole, un po' tutto. Grazie a tutti.